Il campidoglio che vedete alle mie spalle è il campidoglio dove fervono i preparativi in vista dell'inauguration day di domani. Potremmo chiamarlo Trump Bride, è quello che si è appena detto qui a Lincoln Memorial, dove tra pochi minuti avvengono da Trump. U.S.A. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione